e allora si rende più forte sta accadendo, chissà che stai facendo oggi Massimo? Massimo, ma tu che stai facendo? Stiamo cercando per tutta Napoli oggi sono i testi, non c'è faticato, oggi c'è parla con papà e perché parla con tuo padre? Non ho capito e perché cosa voglio fare? Stai parlando a perdere, poco a vinta, poco a muro, poco a terremoto e poi frate e poi, ma stai parlando in sé sociale, dopo i social, mai c'è gli stati negatti per e non la piscina di più Massimo, l'argenza che è cattività, però addorzami un po', cassa tutta a fuori di cose comodi, padone, la pizza che è mulignale e io oggi sono i miei festi, facciamo no, non lo stesso, perché stanno vicino di persone, come fai? Non puoi deludere, devi dare la tua felicità aspetta, monica, papà, lo stai dicendo adorziamo, cini in Marocco, ciao Noi vogliamo a Mulignano Noi vogliamo a Mulignano Noi vogliamo a Mulignano Annanzarlo e c'è lì Cana Maria Una compagnelle tanto tempo fa Pronto, vorrei fare una dedica Massimo, sempre esagerato, questi video fai, 170 pizze con la melanzana giù, un macello Ma perché mi sta facendo? Sta Federico II, stanno facendo uno studio con più melanzana che ti fate fare, è un macello giù Ma allora come ti senti? Ecco che, tu sai, sono molto forte Certo, non posso sconvincere tutti i mali di questo mondo ma ho Presidente, una pizza, può fare il piano